Ehi, vi ricordate di Maria Elena Boschi. Era stata Ministro per le Riforme Costituzionali durante il governo Renzi, poi ha livellato con il governo Gentiloni ed è stata quindi promossa a Sottosegretario del Consiglio dei Ministri. Ma con delega alle pari opportunità. Significa che è sua responsabilità presiedere al lavoro dell'Ufficio Omonimo, che si occupa di contrasto alla tratta di esseri umani, alla tutela delle persone socialmente emarginate, ma soprattutto a lottare per la parità di genere nel nostro paese. Fritz, stamattina la testa così su questa storia. Ovunque, credo di aver sentito gente parlarne per strada, perché ieri Boschi ha postato questo sui suoi social. Notizia interessante della Norvegia, dice, sancita la parità salariale tra calciatori e calciatrici in nazionale, con l'augurio che questo possa avvenire anche in Italia. Segue ovviamente il solito circo, battute sessiste, gente che non ha capito, persone che le danno dell'idiota e della renziana. Che ora, non è che voglia rovinare la festa a nessuno, eh? Ma è ovvio che sia renziana. È stata considerata a lungo essere il braccio destro di Renzi. Cosa deve fare? Essere super partes? Cos'è questa sessione degli italiani per Renzi, amici miei? Parliamone. È tutto finito. Renzi non è più Premier da quasi un anno. Basta. Lasciate andare i vecchi amori. La primavera tornerà. Detta come molti l'hanno capita, anche se il messaggio è piuttosto chiaro, è ovviamente assurdo. Parità salariale nel calcio in genere non ha senso. Non c'è parità di paga nemmeno tra giocatore e giocatore, figuriamoci tra giocatori uomini e giocatrici donne. I compensi, perché sono contratti individuali, non salari, si decidono in base alle regole di mercato. E in un mercato competitivo come quello calcistico, dove un atleta può fare la differenza per la sua squadra, che è fondamentalmente un'azienda gigante, è ovvio che non possa esserci alcun tipo di parità. Sarebbe come chiedere la parità tra calciatori di serie A e calciatori di serie B. La serie A è più vista, genera più introiti, si giocano i migliori, vengono pagati di più e via così. Quindi sono andato a cercarmi la notizia per capire come questo dovrebbe essere possibile, persino in Norvegia. Terra alla quale difficilmente la gente associa il calcio, credo. Dovrebbe essere più una roba tipo freddo, stato sociale, death metal e surstromming, no? La questione è quindi presto spiegata. Parliamo dei gettoni di presenza della nazionale. E solo della nazionale. La Norvegia è molto avanti sotto il profilo delle iniziative volte alla parità, diciamo così. E la stessa federazione calcistica nel paese si è impegnata in modo da rendere paritaria la quantità di denaro che viene erogata agli atleti che militano in nazionale. A prescindere che questi militino in quella maschile o in quella femminile. Sollevando il quantitativo di soldi erogati alle donne dai precedenti 3,1 milioni di corone, il cambio è molto simile all'euro, non c'è bisogno di tradurlo nella nostra valuta, a un totale di 6 milioni di corone per portarlo a livello maschile. E' importante sapere questa cosa perché se no uno pensa che parliamo di miliardi di miliardi. No, si tratta di soli 3 milioni, anzi 2,5. Di quei 3 milioni aggiuntivi, infatti, parliamo dei soldi totali da destinarsi a tutta la squadra, quindi bruscolini per un calciatore professionista, 550 mila sono in realtà una contribuzione richiesta ai giocatori uomini stessi, che quindi, nel nome della parità, hanno versato parte delle loro retribuzioni in favore delle loro colleghe donne. Per capirci, è puramente simbolico. Nessuno degli atleti che milita nella nazionale maschile si sta affamando in favore delle donne. Nessuno sta rinunciando ai propri contratti milionari stipulati con le società private. D'altra parte, credo per le giocatrici donne questo possa fare, invece, un'enorme differenza, perché loro, fuori dalla nazionale, non vengono pagate di certo quanto gli uomini. Quindi, tutto molto bello. Però... c'è un però. Perché non tutti sono d'accordo, e c'è chi, pur comprendendo non si parli di squadre private, ma di nazionale, trova la cosa comunque ingiusta. In Italia, ad esempio, i soldi che vengono dati ai giocatori non sono semplici fondi pubblici, ma vengono raccolti, tra le altre cose, dal sistema pubblicitario, che ovviamente renderà molto di più per la nazionale di calcio italiana rispetto a qualsiasi cosa, fondamentalmente, compreso il calcio femminile. Questo, secondo alcuni, renderebbe ingiusto, ad esempio, premiare un Buffon che arriva con la nazionale in semifinale ai mondiali con la stessa cifra destinata al portiere donna che dovesse arrivare in semifinale con la nazionale femminile. Semplicemente, mentre in quest'ultimo caso a quasi nessuno frega niente, di fatto perché non è molto seguita, e se non è seguita le pubblicità interminabili di macchine che si muovono in città deserte non le vede nessuno, per i risultati dei mondiali la gente è disposta a sparare al vicino, a coltellare il fratello e fare sacrifici umani così da poter finire la serata da tifoso vincitore in piazza facendo caroselli e cantando popolo popo. Facciamo quindi finta che oggi la nazionale la paghiamo 5 milioni e quella femminile mezzo milione. Decidiamo di mettere equo salario però, quindi ora anche le giocatrici donne, pur militando a livelli inferiori, guadagneranno 5 milioni. Evviva, evviva, parità, articoli sui giornali. Ma quei soldi sono frutto di una negoziazione, non sono decisi a caso. Ipotizziamo allora che alcuni giocatori fortissimi della nazionale dicano dopo un po' Sai cosa, FGC? Tu fai soldi grazie a noi, quindi o ci aumentate i premi o noi, anche se convocati, non giochiamo. E sarete costretti a mettere in squadra altri più scarsi e non riuscendo ad arrivare ai quarti o in semifinale o addirittura in finale perderete introiti. Possono farlo, no? Che sia in modo ufficiale o ufficioso non ha importanza, hanno potere perché in effetti senza di loro non si fa niente. Fare i cori e mostrare gli striscioni con il campo vuoto non è così divertente. Credo. E allora, a meno che non li obblighiamo a giocare con le armi, BOOM! I 5 milioni improvvisamente diventano 10. Cosa si fa a quel punto? Si, solleva automaticamente anche il salario delle giocatrici donne solo nel nome della parità? Mi sembra un po' una follia sta cosa. Perché anche se i soldi sono pubblici, e non lo sono, ma facciamo finta lo siano, non ci si può slegare dalle meccaniche del mercato che li fa girare quei soldi. E per assurdo, se si facesse, si dovrebbe continuare a prescindere dalla fattibilità economica della cosa? Si manda in perdita addirittura la gestione della nazionale femminile pagando le giocatrici tantissimo pur di scampare le inevitabili accuse di sessismo? Non lo so, abbraccio le battaglie sulla parità quando mi sembrano sensate, ma in questo caso ho l'impressione che sia una crociata un po' pretestuosa. E se era invece una manovra politica per cercare un po' di attenzione mediatica, beh allora ho abboccato e sono un cretino. Ho provato a farmi la piacere questa iniziativa, davvero, per ore, ma proprio non la capisco, magari mi sfugge qualcosa. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Rimanendo in Italia, volevo dire giusto una cosettina. Apriamo Google, scriviamo Liguria Blue Whale, zona news, vediamo i risultati. Anza, studente si lancia dalla finestra, possibile caso di Blue Whale. Blitz quotidiano, studente si getta dalla finestra, forse un caso di Blue Whale. Secolo XIX, si lancia dalla finestra della scuola, voglio un momento di gloria. Non si esclude, possa essere un caso di Blue Whale. Ora, il secolo ha peraltro modificato il titolo furbescamente, ma il link ancora riporta quello originale, ovvero possibile caso di Blue Whale. Principalmente per il fatto che, se vai a leggere il loro articolo, capisci che non c'è nessuna Blue Whale. Un sedicenne, perché un sedicenne, ha chiesto all'amico di riprenderlo con il cellulare mentre faceva una cazzata qualsiasi per poterla poi pubblicare su web e ricevere quei dolci dolci likes. E la cazzata è stata a lanciarsi dalla finestra, ma si è fatto malissimo dopo un volo di 7 metri ed è finita all'ospedale. Solo reazioni stupite, grazie. Non ci sono curatori, non ci sono liste di film e musica che deprimono. Il ragazzo era a scuola, non a casa, e si è lanciato dalla sua aula all'esterno dell'edificio. Ma Blue Whale fa fare più clicks. E fa fare più clicks perché di nuovo si parla di questa cosa. E di nuovo si parla di questa cosa perché, lo saprete, le iene hanno di nuovo dato una bella rinfrescatina all'argomento. E per le regole acchiappa-click che governano il web, usare parole che generano più traffico nel titolo risulta essere sempre una scelta vincente. Se ci venisse da chiederci come era possibile che durante i miei dolcissimi anni adolescenziali fatti di MTV, Disagio in tutte sportive adidas e Backstreet Boys alla radio ci fosse la caccia ai giochi di ruolo che facevano diventare satanisti e allontanavano da Dio, basta esplorare le stesse dinamiche messe in piedi oggi con l'allarmismo che, invece di arrivare dalla malvagia musica rock, arriva dal misterioso web assieme a tante altre cose che fanno paura, come il gender. E quindi, in definitiva, ecco qua gli effetti del Blue Whale sulla gente. Ognuno tragga le sue conclusioni. E parlando di cose spaventose, lo ius soli è il digiuno di molte figure politiche a favore della legge che, se è calendarizzata e approvata, garantirebbe regole più facili per l'accesso alla cittadinanza ai bambini de facto italiani, cresciuti qui in un contesto italiano. Col seno di poi, era meglio chiamarla ius culture. Non c'è molto da dire in merito, in realtà, a parte che io sono totalmente a favore di questa legge, l'ho sempre detto, e anche dell'iniziativa dello sciopero della fame, di Pannelliana Memoria. Sia nei metodi, Pannella faceva sciopero della fame ogni nanosecondo, sia nel merito, perché queste iniziative erano sempre indirizzate a battaglie etiche considerate controverse. Tra le persone che partecipano c'è Della Vedova, senatore radicale, Cecil Chiang, eurodeputata, addirittura il presidente della commissione antimafia, Rosi Bindi, e il governatore del Piemonte, e molti altri, oltre 600 a quanto pare, che si danno il turno a rotazione. L'idea è quella non di far passare per forza la legge, perché non è così che funziona la democrazia, ma metterla tra le cose da votare al senato e porre pressione su chi in effetti la legge non la vuole approvare, come ad esempio il partito di Alfano, area popolare. Due cose in merito, poi molliamo. 1. Mi avete chiesto un commento sulla posizione un po' ambigua del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di astenersi, di nuovo, nel caso la legge arrivasse al senato, però. In particolar modo sulle parole di Alessandro Di Battista, il quale orientamento politico cozza un po' con la sua decisione di astenersi, per lo meno sembra, quindi in linea con il suo partito. Il punto è che al senato l'astensione non esiste, l'abbiamo detto più volte. Mentre alla camera, se qualcuno si astiene, si abbassa il numero dei voti necessari per far passare una legge, e chi si astiene non conta, di fatto, al senato non è così. Chi si astiene sta automaticamente votando no. Quindi se la tua ragazza ti dice, ti va di venire a pranzo dai miei? E tu rispondi, eh, è uguale, e ti trovi alla camera dei deputati, l'unico sì è quello della tua ragazza. Ed essendo in maggioranza, a pranzo dai suoi ci vai. Mentre se sei al senato e rispondi la stessa cosa, le stai di fatto dicendo che no, non ci vuoi andare. E siete con un sì e con un no. Quindi iniziate a discutere, poi a litigare, poi a urlare, e alla fine a pranzo dai suoi ci vai lo stesso, ovviamente. Quindi nel dire che si astiene, il movimento è di fatto un po' paraculo, a sto giro. E come al solito, mi spiace che, almeno per queste cose, di natura un po' progressista, come le unioni civili, il movimento non mostri più coraggio, spaventato dalla reazione del proprio elettorato, che è troppo variegato. Detto questo, e rimanendo fedele al fatto che, secondo me, la legge non passa, non ci arriva neanche in senato, bisogna tenere presente una cosa. Nel forno c'è anche la legge elettorale. E potrebbe essere che alcuni partiti più piccoli, spaventati dall'ipotesi di non tornare in parlamento con le nuove regole in gioco, si dimostrino più elastici in questo, in cambio di un po' di elasticità dall'altra parte. Il gioco politico prevede anche questo tipo di accordi. Non ce lo scordiamo mai. In ultimissimo è emerso che Google, a seguito delle elezioni negli Stati Uniti e dei sospetti sull'intervento di agenti russi legati al governo di Putin, incaricati di interferire nel processo democratico, abbia iniziato una serie di investigazioni sui propri sistemi. E da queste indagini qualcosa si è saltato fuori. Vi ricorderete infatti che Facebook, dopo aver inizialmente negato, è stata costretta ad ammettere investimenti da parte di società russe legate al governo sui propri sistemi pubblicitari. Soldi, per dirla facile, utilizzati per pubblicità sul social network che si pensa possano essere state mirate a gruppi particolari di cittadini americani per favorire un candidato rispetto a un altro o, semplicemente, contribuire ad esacerbare il già tesissimo clima. Molto diviso, lo è tuttora, che ha caratterizzato questa tornata elettorale. Beh, a quanto pare su Google potrebbe essere successa più o meno la stessa cosa. Per ora, il denaro speso direttamente legato a questi particolari attori e contenuti, che sarebbe stato possibile evidenziare, non è moltissimo, circa 100.000 dollari, ma si pensa che i soldi potrebbero essere molti di più e legati ad altri attori rimasti per ora nell'ombra. E questo, probabilmente, metterà ancora più pressione sul ruolo di questi giganti del web nelle democrazie, visto il modo totalmente inaspettato con il quale le loro piattaforme si sono rivelate essere facili da utilizzare per gestire operazioni di questo tipo. Che non è poco. Pensate a quanto delicato è il ruolo della stampa in un paese e a quanto, invece, è ancora far west il mondo del web, che è però presente nella vita di tutti, molto più di quanto non sia la stampa a questo punto. Ah, anche Microsoft ha detto che farà delle ricerche per vedere se anche il suo motore di ricerca, Bing, non sia stato utilizzato per fini di questo tipo. Che vabbè, Bing. Però sì, dai, fate anche voi le vostre ricerche, ragazzi, non lasciamo indietro nessuno. Il contributo di tutti è importante. Abbiamo una medaglia anche per voi. Bing. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Oggi abbiamo, peraltro, un alfiere, Filippo, che studia all'Accademia delle Belle Arti di Bari, e una regina, Gumitien, la famosa disegnatrice, nota anche qui sul web, che si è recentemente fatta il suo primo tatuaggio, peraltro. Quindi, fateli i complimenti. Artisti, bella gente. Fate i bravi, ci vediamo domani.